Questa è la quarta edizione della Resistenza Festival, un festival che nasce 4 anni fa per promuovere la bellezza dei giardini e in qualche modo fare in modo che questo si possa comunicare con la bellezza dei quali. Gli autori e gli artisti sono articolisti di un certo carico, anche Carlo Cattani, Carlo Tenkla, Felice Romani. Vanno a prendere il mio intervento, il mio intervento, il mio intervento, il mio intervento. Buon abbraccio, i peccini per me! La condirettora sono stati convenuti degli attaccamenti, delle note, delle note che sono stati convenuti. Ma non mi accanto, dottor Aveo! Il tuo destino era stato in campo a provare, così la tua vovola era sicuro. E qui è pieno di spigteri. Non mi senti anche tu? Bene! Storno agli altri! L'amica L'amica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.